Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il rapporto tra il principe William e il fratello Harry continua ad essere segnato dalla distanza, sia fisica che emotiva. Nonostante abbiano partecipato al funerale dello zio Lord Robert Fellows, i due reali non sembrano intenzionati a riallacciare i rapporti. Il legame fraterno tra William e Harry è ormai logoro e caratterizzato da silenzi. La partecipazione al funerale dello zio, avvenuto il 29 agosto, non ha portato a una riconciliazione. I due principi hanno mantenuto il silenzio durante l'evento e si sono seduti separati in chiesa. Non sembra esserci stata alcuna pace tra loro durante la cerimonia. Il rapporto tra il duca di Sussex e il principe William rimane freddo e segnato dal silenzio, che perdura da due anni secondo un amico della famiglia reale. Nonostante ci sia la speranza di una futura riconciliazione, al momento sembra un'ipotesi remota. In conclusione, la distanza emotiva tra William e Harry sembra essere sempre più evidente, nonostante le occasioni di incontro come il funerale dello zio. Resta da vedere se, in futuro, i due reali riusciranno a superare le divergenze e a ristabilire un legame fraterno.